Vacanze da sogno per la regina della TV italiana, a bordo di una lussuosa imbarcazione da milioni di euro Maria De Filippi è senza dubbio una delle figure più influenti e rispettate nel panorama televisivo italiano La sua carriera, costruita con dedizione e professionalità, l'ha resa la regina indiscussa di Mediaset, con programmi di successo come Amici, Uomini e Donne, e c'è posta per te Questo dominio sul piccolo schermo non si traduce solo in ascolti record e affetto del pubblico, ma anche in una serie di beni e proprietà che riflettono il successo straordinario di questa donna Recentemente, Maria De Filippi è stata avvistata mentre si gode le sue meritate vacanze a largo delle coste toscane, a bordo di uno yacht lussuoso che non è passato inosservato Si tratta dell'Ares, una maestosa imbarcazione da 35 metri, che rappresenta il simbolo di un certo gradi di lusso e di una vita all'altezza del suo status Lo yacht Ares è una vera e propria meraviglia dei mari, il cui valore si aggira intorno ai 4,3 milioni di euro Non è solo la sua imponenza a colpire, ma anche le caratteristiche che lo rendono un paradiso galleggiante L'Ares è dotato di una jacuzzi coperta, perfetta per rilassarsi in totale privacy, una palestra per mantenersi in forma anche durante la navigazione, e quattro cabine di lusso pronti ad accogliere gli ospiti con tutti i comfort immaginabili Affittare questo gioiello del mare per una settimana richiede una somma considerevole, ben 140 000 euro. A questa cifra vanno aggiunte le spese relative alla cambusa, che coprono cibo, bevande e altre necessità per l'equipaggio e gli ospiti Non sorprende che una figura del calibro di Maria De Filippi scelga un'imbarcazione di tale prestigio per le sue vacanze, dimostrando ancora una volta la sua attenzione per i dettagli e il suo gusto raffinato Un impero che va oltre il materiale.Ma le proprietà di Maria De Filippi non si limitano ai beni materiali Uno dei suoi maggiori successi imprenditoriali è Fascino PGTS RL, una società di produzione televisiva di cui Maria è proprietaria Questa società non solo produce i suoi programmi di punta, ma ha anche dato vita a WITTV, un portale multimediale che rappresenta un'estensione naturale del suo dominio televisivo Lanciata nel marzo 2013, WITTV offre agli spettatori un accesso esclusivo a puntate, contenuti inediti e materiali dietro le quinte dei programmi di Maria De Filippi Questo portale non solo amplifica la visibilità dei suoi show, ma crea anche un legame più stretto con il pubblico, offrendo un'esperienza immersiva che va oltre il semplice guardare la televisione La Fascino PGT è quindi un tassello fondamentale nell'impero di Maria De Filippi, un impero che testimonia la sua leadership indiscussa nel mondo dell'intrattenimento Guardando al futuro, non c'è dubbio che Maria De Filippi continuerà a dominare la scena televisiva italiana Il suo impero, che si estende dal mare con lo yacht Ares alle onde del digitale con WITTV, è la prova della sua straordinaria visione imprenditoriale Mentre si gode le sue vacanze in pieno relax, Maria non perde mai di vista l'obiettivo, continuare a creare contenuti di qualità che appassionano e coinvolgono il suo pubblico Chiaro è che il suo successo non è solo una questione di fortuna, ma il frutto di anni di impegno, passione e una visione chiara di ciò che vuole ottenere E mentre si gode la bellezza e il lusso del suo yacht, non dimentica mai le radici del suo successo, il suo amore per la televisione e per il pubblico che, anno dopo anno, continua a seguirla con affetto e ammirazione Grazie a tutti